Ciao ragazzi, allora questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuto andare in onda la prima puntata di Temptation Island e quindi l'intero programma. Purtroppo quest'anno non sarà così. Perché questo video messaggio? Allora, diciamo io ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l'ho raggiunto grazie a Temptation Island. Quindi come potrete immaginare sto ricevendo tantissimi messaggi da due mesi a questa parte ma soprattutto in questo ultimo periodo dove mi scrivete Filippo perché non ci sarà Temptation Island? Filippo quanto ci mancherà Temptation Island? Non sarai estate senza Temptation Island? Perché non ci dici nulla? Perché non rispondi? Eccomi, sono qui a rispondervi adesso. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa tantissimo piacere. Questo vuol dire che durante questi anni vi siete tanto affezionati a noi, al programma, ai nostri ragazzi, alle storie. Vi siete divertiti a commentare le puntate subito dopo la fine delle puntate, gli amici di Instagram, Twitter, Facebook e non vi nascondo che anche io alla fine di ogni puntata andavo a leggere i commenti e mi divertivo insieme a tutti quanti voi. Dall'altra parte però sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest'anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone dalla prima all'ultima e non per valore di importanza perché eravamo una famiglia. Che dirvi? Vabbè facciamo così dai, per sdrammatizzare. Non posso far mancare questa frase in questa estate 2022. 2022, sì, 2022. Allora, pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te. Oppure, tutto questo è... Finite voi la frase. Ciao ragazzi. Tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita. Mi mancherete. Ciao. Grazie. Ciao.